Il nome del popolo italiano, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara del Mastro Michele colpevole di tutti i reati agli due iscritti. Ritenuto il concorso formale tra i delitti di cui ha i capi A, B e C, lo condanna alla pena di 4 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'articolo 29 del codice penale, dichiara del Mastro Michele interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Il 22 novembre 2008, a liceo Darwin di Rivoli, il crollo del controsoffitto della quarta D causò la morte di Vito Scafidi, giovane di 17 anni. Altri suoi compagni furono gravemente feriti. La sentenza di primo grado, pronunciata oggi dal giudice, riduce, rispetto alla richiesta dei PM, da 7 a 4 anni la pena per Michele del Mastro, responsabile della provincia, che seguì i lavori di ristrutturazione del liceo. È stato ritenuto responsabile di omicidio colposo e lesioni colpose. Per altri 6 imputati, per i quali la pubblica accusa aveva chiesto pene da 4-5 anni, è arrivata l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Mi sembra una sentenza importante perché mette in luce la importanza, la gravità del problema della sicurezza delle scuole e la necessità che questo problema diventi al centro dell'attenzione, in particolare alla luce di questa sentenza, degli enti proprietari delle scuole. Interpretare questa sentenza, finché non la si legge, è molto difficile. In primissima istanza, quello che si può pensare è che il magistrato abbia ritenuto accoglibile la tesi secondo cui non c'è stata una colpa nella manutenzione dello stabile, ma che vi sia stato invece un problema nel momento nel quale fu fatta una ristrutturazione e molti decenni or sono. Per noi non era importante che venissero tutti condannati, noi cercavamo giustizia e l'abbiamo ottenuta. Cercavamo e cercava la famiglia, specialmente la mamma di Vito, di fare in modo che cambiasse un sistema sotto il profilo delle scuole, sotto il profilo della sicurezza. Ci sono riuscite. Per noi cittadini di questo paese resta grave il compito di lavorare sul piano culturale e sul piano politico perché queste cose non capitino più. Questo è l'impegno che ci siamo presi due anni fa con la famiglia di Vito e con gli altri ragazzi del Darwin. È l'impegno che noi oggi ribadiamo. Dobbiamo andare avanti perché un paese civile non si può permettere fatti come quello del Darwin che offendono vite e soprattutto offendono la fiducia che i cittadini devono poter avere nei confronti delle istituzioni.